Wild West San Marzano sul Sarno, una serata speciale per i ragazzi della Quinta O. Sì, io e Giada, Antonio, buonasera! Buonasera, Giada! Giada e Sara? Giada e Sara! Le veline! Le veline! E anche a farla apposta siamo questi vecchi qua! E tu capisci? Ti manca il rosso! Ce l'ho detto! Dentro al cuore come anche il rosso questa sera perché davvero un'altra bellissima serata come ogni fine settimana! Ma stasera ci ha onorato della sua presenza da cliente, Anna Bella, con un tavolo enorme di tutti gli amici del liceo. È stata una bellissima serata perché lei l'ha aliettata con la sua verb di animazione insieme ai suoi amici perché qua è esplosivo il sabato! E all'interno c'è anche tanta altra gente che sta ballando, sta danzando perché qui la serata non termina con quella che è la scena dove la ristorazione è buonissima. Noi facciamo mattina qua perché la gente sta bene, si diverte, la bella musica di DJ Danny Russo, l'animazione delle nostre cubiste, le telecamere di Night and Day. Da lunedì alla domenica potete festeggiare il vostro evento e c'è una promozione che chi prenota entro il 28 febbraio, qualsiasi data anche successiva al 28 febbraio, paga 10 euro. Ma la cosa che noi stiamo facendo da già quattro sabato è che è la prima volta che lo dico attraverso le telecamere di Night and Day perché solo quelle là vengono. Ci sta l'omaggio donna valido fino alle ore 23 senza obbligo di consumazione, quindi tutte le donne indifferentemente che verranno entro le ore 23 usufruiranno dell'omaggio donna. Sì ma è l'ora donna, l'omaggio donna, l'omaggio donna, l'omaggio donna, l'omaggio donna, l'omaggio donna, mentre la domenica è proprio free. E la domenica loro danno, tanti gadget, tanti premi, karaoke, animazione, disco ed è free. Vuol dire che venite qua, quello che consumate pagate perché la nostra domenica va avanti da 11 anni e noi non l'abbandoniamo. E quest'anno è free, sabato posto ci saranno i Rebus, il ritorno dei Rebus alla grande, Umberto, sabato successivo ci sarà Agostino e il quarto sabato ci sarà la Ciaccarella, Vanessa. Ci piace? Ci piace. A te? Beh, piace tanto. Ma il tuo amore stasera non lo vogliamo salutare. Eh ma quella dorme a quest'ora, però lo salutiamo. Ciao amore mio. Un bacio, un bacio, ti voglio tanto, 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 ma ti amo pure, vai. Abbombiamo. E allora bene, bene, viva la Burra, stai preparando per San Valentino? Sì, no, e io mi sto preparando per San Remo. Che viene il giorno, perché noi partiamo dopo San Valentino, partiamo per San Remo, però San Valentino lo stiamo preparando qui a Wild West, perché noi di natura siamo innamorati dell'amore, ci piace amare e quindi anche quest'anno festeggiamo il San Valentino alla grande per le coppiette e per i single, quindi domenica 14 febbraio veniteci a trovare perché ci saranno tante sorprese per le coppiette e per non le coppiette noi comunque le accoglieremo. Benissimo, allora Giada, devo fare anche quella che è la domanda della settimana ad Antonio, io la fai tu. Non ce la faccio io, ce la faccio io. Non lo so, ma proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Antonio, ma tu nella tua vita hai mai avuto qualche rimpianto o qualche rimorso? Nella mia vita? Certo, non nella mia. Ma tu parli della vita proprio vissuta fino ad oggi. Non proprio da piccolo, però all'età in cui eri consapevole. L'ho potuto avere anche nell'ultimo periodo. Sì, sì. Troppo di cose. Che cosa, che cosa vogliamo sapere? Perché siamo curiose, le donne. La curiosità è donna. E non è uomo, quindi non lo posso dire. Posso fare io una domanda a voi? Tu ci fai o ci sei? Tutte e due, entrambi. E tu? Cerco di farci sempre. Sì. E di esserci contemporaneamente. Perché la vita è un po' così del resto. No, la vita, la tifo a voi che state a casa, va vissuta. Il vola è 0815187546. Vivilavovito.it. Vi stanno abbandonando. E' il nostro portale dove raccontiamo le nostre serate del Wild West e Mamma Non Mammo. Vi raccomando, non esiste solo il Wild West. C'è anche il Mamma Non Mammo dove trovate il principe. Il principe, salutiamolo. Quindi vivilavovito.it, portale della notte, foto, quest, book, animazione, programmazione, di tutto e di più. Amatevi, vogliatevi bene e godetevi la vita. Non riservate nulla all'occasione. Vivetela. Un bacio dal Wild West. In questo caso è stato di dire non rimpiangere niente. Niente, niente. Wild West, ciao! E allora facciamo dal Wild West quello che è un magnifico brindisi alla quinta. Ciao! Riccola, saggi e auguri! Grazie! Tutte donne hai invitato? Sì, sì. Ma quanti anni costi? 21. 21? Un bacio agli amici dei tenei! Sui mai Wild West? E' perché è uno dei pub più belli. Ma vi state divertendo? Tantissimo! Siamo una comitiva fantastica! Sabato è sinonimo di gran divertimento qui al Wild West. Un aggettivo per descriverlo? Fantastico!